E' iniziata su cielo la terza stagione di X-Factor USA e subito l'hashtag X-Factor USA è entrato nei trend twitter italiani. Il talent ideato da Simon Cowell fa sempre breccia nel cuore dei telespettatori, soprattutto se in giuria c'è un idolo delle adolescenti come Demi Lovato. Demi è un giudice pieno di passione, si commuove spesso e insieme a lei, of course, piangono anche tutte le sue giovanissime fan. Lacrime della Lovato a parte, X-Factor USA ha parecchi assi nella manica. Insieme a lei, oltre a Simon Cowell, troviamo anche Paulina Rubio e Kelly Rowland che dovranno decidere a chi assegnare il premio finale che ammonta a un milione di dollari. Tra gli ospiti anche molte star internazionali come gli One Direction, Pitbull, Leona Lewis, Mary J. Blyde, Lea Michele e ancora Enrique Iglesias e Michael Bublé. Purtroppo i fan della Lovato hanno però un altro buon motivo per piangere. A quanto pare causa ascolti molto bassi, questa sarà l'ultima stagione di X-Factor USA. Purtroppo i fanciano di X-Factor USA. Purtroppo i fanciano di X-Factor USA. Purtroppo i fanciano di X-Factor USA.